Ciao, da Gennaro Romagnoli di Psicologia, Neurolinguistica.net ti do il benvenuto alla 46esima puntata del podcast di Psynel. Oggi parliamo di accettazione e cambiamento, due aspetti della crescita personale di cui nessuno parla, ma conoscerli può fare davvero la differenza. Sigla! Bene, bene. Se ti ricordi qualche tempo fa, ho pubblicato un podcast sul bilanciamento ego-anima. Qualcosa che pensavo facesse inorridire i miei ascoltatori, tutti razionali, ma che invece è piaciuto molto. Sai, non sono molto bravo ad indovinare i tuoi gusti. È anche per questo che ti rompo le scatole e ti chiedo il feedback, cioè dei commenti, delle review su iTunes, eccetera. Di cui ti ringrazio e al termine del post ne parlerò ancora più approfonditamente, quindi seguimi fino alla fine. Bene, ti ricordi quindi quel post dedicato alla dicotomia anima-ego, cioè alla polarità fra anima-ego? Il nostro cervello, cioè il tuo cervello, il mio e il tuo, funziona per termini dialettici, cioè per poli opposti. E non hai bisogno di me, ovviamente, per capirlo. Non solo perché ne hanno parlato psicologi e pensatori di tutti i tempi, ma perché è un'esperienza comune notarlo. E visto che so che il mio pubblico è avanzatissimo, probabilmente sai già questa cosa. La nostra mente è, per così dire, polare. Così come l'intero universo che ti circonda. La notte e il giorno, il freddo e il caldo, il nord e il sud, il più e il meno, eccetera. Potrei andare avanti, ovviamente, all'infinito. Oggi voglio parlarti di una dicotomia mentale fondamentale. Una dicotomia che in tempi storici diversi era molto più chiara, ma che nel tempo si è un po' persa. Soprattutto con l'avvento delle metodiche di oltreoceano, di quelle americane. Sì, perché per me la crescita personale non è solo quella roba americana. Loro sono stati sì i primi a dargli un nome e a venderla, fra virgolette. Gli americani sono fatti così, ma noi abbiamo millenni di storia di crescita personale, dai nostri mistici ai nostri religiosi, ai filosofi, ai nostri pensatori, eccetera, eccetera. Ok, questo è un altro discorso, ma ci tenevo a ricordarlo. Infatti gli americani hanno spinto tantissimo sul versante del cambiamento personale. Se qualcosa di te non ti piace, semplicemente cambiala. Come se fosse un oggetto che puoi sostituire. Ed in parte hanno avuto un po' ragione, perché abbiamo un enorme margine di miglioramento fatto in questo modo, utilizzando per così dire quella mente strumentale. Tuttavia il cambiamento è anch'esso dialettico o polare, nel senso che ha un suo lato nascosto, il suo opposto. Ma neanche così tanto, che gli esperti oggi chiamano accettazione. Te ne ho già parlato a lungo, anche nel post di venerdì, ma ci tengo a dirti che accettazione non significa affatto arrendersi passivamente alle cose che ci capitano. Immagina che tu voglia diventare più sicuro di te quando parli in pubblico, perché hai notato di non essere molto bravo, non riesci a gestire le emozioni mentre sei davanti a un pubblico. Questa cosa non ti piace e allora desideri cambiarla. Inizi così a frequentare corsi per parlare in pubblico, a comprare corsi online, a leggere libri e ascoltare audio, eccetera. Per fare il passo di migliorarti e metterti quindi sulla strada del cambiamento, devi necessariamente renderti conto del tuo stato attuale. E quindi, in parte, devi accettare una parte di te, quella che non sa ancora, fra virgolette, parlare in pubblico. Ora, ammettiamo che in realtà il nostro amico si sia lanciato senza accettare nulla. Anzi, magari qualcuno l'ha costretto, gli ha detto guarda che devi migliorare, devi imparare il non verbale, devi imparare a fare la presentazione, devi imparare a parlare così. Così questa persona che magari non si sente pronta per fare questo cambiamento, prende parte e va a fare un corso dal vivo. Nelle migliore delle ipotesi, se questa persona crede di saper parlare dal vivo, quindi non c'è un minimo di accettazione dei suoi errori, fra virgolette, del feedback che gli è stato dato, non imparerà nulla. Nella peggiore delle ipotesi, questa persona andrà lì, imparerà queste tre, quattro cose, poi cercherà di metterle in pratica, diciamo così, fra virgolette, alla carlona. E questo ovviamente non migliorerà il suo modo di comunicare, anzi inserirà elementi assurdi nella sua comunicazione, cioè elementi non naturali che lo renderanno ancora peggiore come public speaker. Sembra strano, ma vero, noi funzioniamo proprio così. Se non mettiamo accettazione nel problema che vogliamo risolvere, questo diventa via via più difficile da risolvere. Immagina che questa persona non abbia risultato desiderato. Secondo te si impegnerà di più nel parlare in pubblico? Molto probabilmente se non c'è l'accettazione si impegnerà sempre di meno, anzi potrebbe arrivare ad evitare di parlare in pubblico. Accettare non è una questione per così dire relazionale, come se fosse un oggetto, no? Non ho quelle capacità di comunicazione e come oggetti li acquisto, li metto dentro di me. Non significa che hai più tempo per fermarti a riflettere quando accetti, anzi significa che accogli completamente e attivamente quella difficoltà nel parlare in pubblico e questo da solo può smuovere le tue emozioni, le tue risorse e permetterti proprio quel cambiamento che desideri, proprio quel cambiamento strumentale che tu vorresti. Detto in altre parole, se non c'è accettazione più cerchi di cambiare le cose e più vuol dire, significa che non riesci ad accettarle. Per cui spesso le persone restano bloccate in questo circolo vizioso senza rendersene conto. Appunto, se non c'è l'accettazione non te ne puoi rendere conto. Nella crescita personale si parla pochissimo di questo passaggio, perché in realtà si tratta di due scuole diverse che però riescono entrambe a portare verso un passo in avanti. Oggi la ricerca ci sta mostrando quanto sia importante il ruolo dell'accettazione attiva, come abbiamo visto più volte con le tecniche della mindfulness, dove non devi cercare di cambiare delle cose, ma solo accettare e osservare ciò che emerge e, paradosso dei paradossi, le persone cambiano senza cambiare. Te lo ripeto, cambi senza cambiare. Questi processi all'interno del mio campo in psicoterapia ormai sono chiarissimi e vedrai che qualcuno come me li starà già portando nel campo della crescita personale. Lascia che ti faccia un esempio nel mio campo. In una delle terapie più famose, la cognitivo comportamentale di seconda generazione, si puntava tutto sulla modifica di quelle che noi, qui nell'increscita personale, chiamiamo convinzioni. Ogni volta che il paziente barra cliente ha una convinzione disfunzionale, gli si insegna a controbatterla, cioè a distruggerla razionalmente, proprio a chiederti è proprio vera questa roba? E a far e a darti delle risposte. Questo molte volte funziona, anche se è molto faticoso. È un po' quello che si fa nella PNL, se ci pensi. Al contrario, nella terza generazione, quella degli ultimi tempi, invece si insegna ad accettare quella convinzione come un semplice frutto della nostra macchina pensante, quella che su Psynel abbiamo chiamato più volte il GPS, oppure la mente, per alcune tradizioni. È un po' come dire che la seconda generazione si spingeva sul cambiamento attivo e razionale, mentre la terza generazione sull'accettazione e sulla mente saggia. Ma nella realtà entrambe facevano qualcosa di simile, procuravano al paziente la possibilità di rendersi conto che non era schiavo del suo pensiero, che lui era molto di più dei suoi pensieri. E se mi segui da un po' di tempo sai che questo è un tormentone, che ripeto spesso, tu sei molto di più dei tuoi pensieri. Così, come abbiamo già analizzato nei post, credo che gli esercizi di PNL, con le sottomodalità eccetera, non siano altro che un modo per capire davvero che la mappa non è il territorio e non è una reale programmazione inconscia, come molti credono. Anche perché di inconscio le tecniche di submodali della PNL hanno davvero ben poco. Quindi, Genna, mi stai semplicemente dicendo che per cambiare mi devo accettare? Devo accettare qualcosa? Sì, ma dipende che cosa intendi tu per accettare. Infatti, se intendi arrenderti alle cose, allora è chiaro che questo è il nemico numero uno del cambiamento. Mentre se invece intendiamo accettare attivamente, cioè prenderci la nostra responsabilitas, la capacità di rispondere agli eventi della vita con un atteggiamento di accoglienza come quello della mindfulness? Allora sì, allora da qui puoi davvero fare i tuoi cambiamenti. Quindi, accettazione e cambiamento vanno di pari passo, anche se a volte si comportano come una bilancia, dove se c'è troppa accettazione non sembra esserci cambiamento e viceversa. Eppure, per avere un equilibrio interiore, devi essere in grado di fare chiarezza su questi processi, su come tu cerchi di cambiare te stesso e le persone che ti circondano. Peggio ancora quando cerchiamo di cambiare gli altri. È divertente pensare che Milton Erickson, che probabilmente tu conoscerai, utilizzando l'ipnosi potrebbe essere immaginato come mister cambiamento, no? Come la vedresti tu la tecnica ipnotica? Pensaci un po'. Invece è molto interessante che Erickson incentrasse tutta la sua metodica sulla utilizzazione, che si potrebbe anche tradurre come accettare incondizionatamente tutto ciò che il paziente ti porta. Lo so che qualcuno la vede come una semplice tecnica che usava Erickson, ma per chi lo fa di mestiere posso assicurarti. È chiaro invece che quella è una vera e propria mentalità, è un vero e proprio atteggiamento mentale che facilita, guarda caso, proprio il cambiamento. Quindi in un campo come l'ipnosi, che potrebbe sembrare il campo numero uno del cambiamento, in realtà c'è anche un'enorme parte di accettazione. Senza questa parte, posso dirtelo francamente, quelle cose là non funzionano. Quindi se da tanto tempo ti stai girando intorno a questo campo e non capisci come non riesci a cambiare il tuo vicino di casa, sappi che questo è uno dei motivi. Spero mi perdonerai se ti lancio tutte queste suggestioni, tutta questa roba, ma penso siano davvero utili a mostrare quanto si approfonda questa questione, questo argomento. E credo che non si possa tralasciare in un posto dove si parla di crescita personale questa roba, perché questa bilancia, cioè questa dicotomia fra cambiamento e accettazione è sempre presente, anche in questo momento, mentre mi stai ascoltando. Ora, una parte di te starà pensando Ma che? Io devo accettare di più la mia parte per cambiarla? Mi sembra una cavolata. Ma se io non la voglio proprio, cosa cavolo devo accettare? Adesso spengo subito questo audio perché ho voglia di cambiare. Lo so, a volte è complicato da vedere quanto sia paradossale il nostro modo di pensare. Però ormai lo sappiamo, conosciamo questa nostra psicologia e possiamo, per così dire, sfruttarla a nostro vantaggio. Vediamo come iniziare a mettere in pratica questo concetto profondissimo e trarne il massimo profitto. Per cui, come sempre, bando alle ciance ed iniziamo con i consigli di Psynel. Per prima cosa voglio iniziare dalla fine, quindi primo medita. Il modo migliore per capire il concetto non concettuale di accettazione è la pratica della mindfulness. E sì, se stai pensando che ci vorrà un sacco di tempo prima di avere delle profonde intuizioni su questo bilanciamento interno, sì, hai perfettamente ragione, ma se non hai una pratica di meditazione ci metterai ancora più tempo. Ok, lo so, sono stato chiaro e ormai è afferrato logicamente come funziona questa dicotomia fra cambiamento e accettazione, ma per viverla su te stesso il modo migliore è quello di meditare, cioè di disidentificarti dai tuoi contenuti mentali per entrare in un'area che non è fatta di contenuti, che noi chiamiamo non concettuale. Secondo, la consapevolezza ricordata. Prendi consapevolezza di questa dicotomia all'interno della tua vita. Se vuoi puoi prendere un pezzo di carta, dividerlo in due colonne e pensare a qualcosa che vuoi migliorare di te. Questo puoi scriverlo in alto, nella colonna di sinistra scrivi perché sarebbe bene accettare quel problema, oppure chiederti se lo stai accettando. In quella di destra invece scrivi come sarebbe se cambiasse, oppure se stai cercando di cambiarlo. Insomma, fai un'analisi dell'accettazione e del cambiamento di quella cosa. Poi torna nella colonna di destra e magari chiediti come potrei accettare quel problema, cosa dovrei fare per accettarlo e riportalo lì nella colonna di destra. E alla fine fai altrettanto chiedendoti cosa dovrei cambiare per risolvere questo problema e riportalo nella colonna di sinistra. Anzi, forse mi sono confuso. Insomma, devi fare due colonne, una sinistra e una destra e porti queste domande. Terzo, la consapevolezza presente. Ora ti chiedo di fare qualcosa di particolare durante tutta questa settimana. Cerca di notare quando emerge questa dialettica interiore fra cambiamento e accettazione. Dove ti ricordo per accettazione significa una presa di posizione, di non arrendevolezza, ma al contrario di apertura e di accettazione di disponibilità verso se stessi e verso quei contenuti che emergono, verso quelle emozioni che potrebbero emergere. Puoi scriverlo ad esempio sul tuo cellulare, devi tenerne traccia. Puoi usare un pezzo di carta, puoi usare un diario, puoi dirlo a voce, puoi decidere di usare Evernote, una bellissima applicazione. Insomma, puoi farlo in molti modi diversi. L'importante è portare questa consapevolezza presente di tanto in tanto quando ti accorgi che esiste questo bivio fra cambiamento e accettazione. Quarto, non è una battaglia. Quando desideri cambiare, vivi i tuoi conflitti interiori come se fossero delle vere e proprie battaglie, come se ci fossero due eserciti che si contendono un territorio. Solitamente l'esercito A vuole che tutto resti uguale, mentre l'esercito B vuole invece cambiare. Così potrebbe sembrarti che l'accettazione sia dalla parte di A, ma ti sbagli. Infatti accettare significa renderti conto che tu sei sia A che B, vincendo fra virgolette il concetto di non contraddizione aristotelico. Scusa Jenna, ma allora io chi sono? Io chi sono se non sono né A né B in questa battaglia? Tu sei il campo di battaglia, il luogo dove si svolge questa battaglia. Quinto, quindi abbandona il campo. Se dentro di te senti molto forte questa dicotomia, prova ad abbandonare il campo di battaglia di tanto in tanto. Immaginati come se tu fossi il luogo dove le due parti si stanno scontrando. Come ti dicevo nel post di questo venerdì, il tutto si potrebbe sintetizzare in più senti il bisogno di cambiare e più hai bisogno di accettare. Cioè più senti il bisogno di combattere questa battaglia e forse più hai bisogno di renderti conto che tu sei il campo di battaglia, qualcosa di più. Il cambiamento viene infatti visto come la risultante della battaglia, dove ci sono vincitori o perdenti. Ma ricordiamoci che siamo sempre noi quel campo di battaglia. Come avrei intuito si potrebbe parlare a lungo di questo concetto, perché nella crescita personale se ne parla pochissimo. Ci ho provato inserendo l'idea del testimone qualche podcast fa, su cui ho macchinato per molto tempo. Infatti quel campo di battaglia è quel nostro osservatore interno che senza giudicare è testimone costante della battaglia. Questo osservatore è presente in tutte le tradizioni, fino alla nostra cara psicologia. Ok, d'accordo Genna, ma allora è tutto solo un'accettazione? No, perché paradossalmente quando accetti quella battaglia, quando ti rendi conto di essere quell'osservatore, puoi davvero iniziare a cambiarla. Decidere di osservare quella battaglia è, guarda caso, un cambiamento. Spero che ora sia chiaro che accettazione e cambiamento sono due facce della stessa medaglia, entrambe vanno prese in considerazione per una vera crescita personale. Ora vorrei sapere tu che cosa ne pensi, esperto fruitore della crescita personale. Ma prima di lasciarti questo spazio, come sempre, la rassegna stampa di Psynel. Bene, come sempre partiamo dal podcast della scorsa settimana dedicato al potere delle parole. In questo podcast ti racconto come funzionano le nostre reti concettuali, che fanno un po' parte di quella che noi potremmo chiamare mente all'interno di questo contesto. È un discorso davvero tanto grande e visto che tra poco voglio fare i ringraziamenti per chi mi ha lasciato la recensione su iTunes, lascio a te l'onere di ascoltarlo. È davvero un bel post, è davvero un bel podcast in generale, perché ti racconta davvero come funziona la nostra mente. Se sei un appassionato di linguistica, di linguaggio, e vuoi capire come il linguaggio influisce sulla mente, credo che questo podcast possa darti davvero delle indicazioni chiare e testate dal campo scientifico di come funziona la nostra neurolinguistica. Infine, il secondo post è dedicato all'accettazione versus il cambiamento. Inizia dicendoti, secondo te è più importante accettare o cambiare? Tu adesso lo sai, perché ovviamente abbiamo approfondito questo argomento proprio per i numerosi feedback che mi sono arrivati. Mi sono arrivati in questa settimana numerosi feedback proprio su questo tema, perché posso assicurarti che se ne parla davvero poco nel campo della crescita personale, mentre in realtà fa parte della crescita personale accettare e anche cambiare. Per ora ci siamo tutti quanti, tutti noi italiani appassionati di crescita personale, ci siamo orientati più sul cambiamento e ora di aggiungere anche qualche pezzettino di accettazione. Bene, come promesso, eccomi qua, sono davanti alle recensioni dei clienti, così si chiamano qua sul mio App Store, recensioni dei clienti, anche se sai che il podcast che stai ascoltando è gratuito. E ci sono state numerose recensioni, voglio partire dalla prima, dalla più vecchia di tutte e andare avanti. Vedremo un pochettino quante riuscirò a leggerle. Allora, se in caso tu non lo sapessi, puoi fare una piccola operazione davvero importante per il mio lavoro, che è quella di andare su iTunes e lasciare una recensione, mettendo le stellette e scrivendo che cosa ne pensi. È ancora più importante che lasciare dei commenti all'interno del blog. Sì, tu sai che se vuoi farmi le domande puoi farmele in privato, puoi farle sui commenti del blog, ma se vuoi farmi dei complimenti, il modo migliore per farmelo, la cosa che fa crescere di più il podcast, è farlo direttamente su iTunes. Puoi scaricarlo anche se non hai nessun apparecchio Apple. Allora, partiamo dalla prima recensione che si intitola Psicologia e crescita personale di Aidepe. Ottimo podcast scoperto solo ad agosto 2014. Mi sono riascoltato due anni di puntate. Bravo, da oggi ti seguo. Grazie mille, grazie a te Aidepe. Spero di leggere bene il tuo nome. Poi, avanti, finalmente, un altro 5 stelle da Atest. Finalmente l'audio newsletter di Gennaro Romagnoli in podcast. Era una vita che aspettavo una modalità più comoda per ascoltarle. Consiglio a tutti l'ascolto, bla bla bla, ok? Non ti leggo tutta la recensione. Poi, fantastiche, 5 stelle da Montezemolo. È bellissimo avere le ANL, l'audio newsletter, che è il vecchio nome di questo podcast, sull'iPhone. Poi, ottima idea da Firu C. Grande Gennaro, finalmente, contenuti di qualità fruibili anche per chi come me è spesso in macchina. Grazie. Anche a me piace tantissimo, Friu C, ascoltare le cose in macchina. Poi, unico da Gennitz, Gennitz, sì, Gennitz. Servizio gratuito di aggiornamento di psicologia con approccio scientifico. Semplicemente straordinario. Grazie mille, Gennitz. E poi, davvero interessante, gab.com. Una specie di corso di psicologia pratica da usare nella vita di tutti i giorni per migliorarsi. Affronta vari argomenti, eccetera, eccetera. Grazie mille, gab.com. Poi, arrivo all'ultimo commento, che è di Max Formisano. Se abiti sulla Luna, probabilmente non sai chi è, ma se sei un italiano, sei appassionato di psicologia e di crescita personale, conoscerai il lavoro del grandissimo Max Formisano. Gennaro, i tuoi podcast vanno davvero in profondità e sono tra i pochi che ascolto con attenzione e da cui apprendo sempre qualcosa di nuovo. Grazie ai tuoi studi e al tuo lungo impegno. Non smettere. È al tuo impegno. Non smettere. Grazie mille, grazie a te, Max. Anch'io ascolto il tuo podcast, anzi, invito tutti i miei lettori. Ti invito ad ascoltare anche il podcast di Max, che è davvero bellissimo. Lo trovi sempre su iTunes. Nelle prossime puntate leggerò gli altri commenti bellissimi. Ti ringrazio davvero tanto per questi due minuti che spendi per commentare il mio podcast su iTunes. Ti ricordo che è un'operazione veloce che però può aiutarmi davvero tantissimo nella divulgazione di questo mio lavoro. Bene, siamo arrivati al termine di questo podcast. Ti ringrazio tantissimo per avermi ascoltato fino a qua. Ti auguro una meravigliosa giornata. Ci sentiamo lunedì prossimo. Un saluto da Gennaro Romagnoli di Psicologia Neurolinguistica.net Gennaro Romagnoli di Psicologia Neurologia Gennaro Romagnoli di Psicologia Neurologia Grazie a tutti